E non cade, e non cade, ben ritrovati ragazzi dal vostro Simon Interista Ho provato a far vincere la Svizzera ma non c'è stato niente da fare Non c'è stato niente da fare, nonostante la Svizzera ha attaccato per tutta la partita Sto pallone, Benedetto non entra, una traversa, una parata di cosola, come si chiama, Rui Patricio E niente, Portogallo, tre tiri in porta, tre gol, vabbè Portogallo-Svizzera, tra parentesi, non mi ricordo neanche che ci fosse questa partita Se non fosse stato per l'applicazione che ho io per seguire il calcio Che non nomino perché non voglio fare pubblicità gratis Allora, manca un minuto circa, sono sul 3-1 Insomma, la Svizzera non credo proprio che riesca a fare, a segnare adesso Tripletta di Ronaldo, ragazzi, allora sinceramente Allora, molti, io non, ovviamente si fanno i complimenti a Cristiano Ronaldo Perché se fai tripletta ovviamente bisogna fare i complimenti Però, innanzitutto bisogna fare i complimenti a Cristiano Ronaldo Anche se non c'è più Allegri, però vabbè Nonostante tutto la Svizzera, secondo me, non meritava la sconfitta Cioè, secondo me almeno il pareggio lo meritava Perché, anzi, la Svizzera ha giocato meglio, secondo me, del Portogallo Il Portogallo ha vissuto di folate così La Svizzera è stata più continua Ecco, è appena scaduto il quinto minuto di recupero Ancora fa giocare un attimo l'arbitro Ma, sinceramente, ormai è finita Cioè, 3-1 Allora, stavo dicendo Ovviamente i complimenti a Cristiano Ronaldo si fanno Però, secondo me, non è stato il migliore in campo Perché, ok, è vero, hai fatto 3 gol Quindi complimenti Ma, secondo me Allora, il migliore in campo, per quanto riguarda i gol, sì Però, diciamo che la Svizzera ha giocato meglio Sinceramente Cioè, poi non è che si è inventato i gol dal nulla Cioè, perché il primo è stato su punizione Ma lì c'è stato più che altro l'errore del portiere È finita È finita qui Quindi il Portogallo passa Non so In finale Passa in finale Quindi è la prima finalista Perché questa era una semifinale Quindi il Portogallo è la prima finalista Di questa Nations League Batte la Svizzera 3-1 Ok, dicevo Per i gol, sì, è stato il migliore in campo Però, secondo me Shakiri ha fatto una partita veramente sontuosa Insieme a Seferovic Che ha fatto veramente Cioè, ha preso una traversa Di testa le prendeva tutte lui Insomma Complimenti a Cristiano Ronaldo Però a me è piaciuto di più E mi sono piaciuto di più Shakiri e Seferovic Detto questo Parliamo un po' della partita Allora, sinceramente Meritava di più la Svizzera Non perché Il Portogallo mi è stato il cavolo Cioè, le mina Allora Meritava di più la Svizzera Obiettivamente Perché ha attaccato di più Ha giocato meglio Il Portogallo ha vissuto di episodi Cioè, quell'episodio L'episodio della punizione Lì Il Portogallo ha fatto una cappellata Secondo me Perché, insomma Stavi sul tuo palo Dovevi Cioè, la Non era una punizione imprendita Che te l'ha messa all'incrocio dei pali Di quella Ci poteva arrivare benissimo Era una punizione Prendibilissima Il 2-1 È stato un lancio in verticale E, insomma È un altro episodio Cioè, nel senso L'aggancio bellissimo Di Bernardo Silva Poi arriva Cristiano Ronaldo Insomma, non è che sbaglia E poi il 3-1 Su un erroraccio Di non mi ricordo chi Mi sembra Ciaca Che non mi è piaciuto tantissimo Devo essere sincero Ha fatto Un qualche errore Di troppo l'ha fatto Non mi è piaciuto tantissimo Tra l'altro Oggi è esordiva In prima squadra Joe Felix Ragazzi Che è il giovane Che si sta mettendo in mostra Nel Benfica Non ha giocato bene Ha giocato malino 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 Però Diciamo che Insomma È la prima in nazionale C'ha 19 anni C'ha l'età mia Questo c'ha C'ha la fottuta mia età C'ha la fottuta età mia Questo Cioè, vi rendete conto È già giocato in nazionale Vabbè Dicevo Comunque ha giocato Gioca in nazionale Ha fatto la prima oggi Quindi, insomma Non è che gli si può dire Più di tanto Difesa a Portogallo Ragazzi Brutta Brutta Cioè, in realtà Tutte e due le difese Facciano schifo Veramente Stanno a giocare Chi faceva schifo Di più in difesa Perché, veramente Akanji, Rodríguez E Schar Schar Non so come si dice Non si può sentire Pepe, Rubendias Raffael Guerrero E Nelson Semedo Sono praticamente attaccanti Cioè, perché Nelson Semedo Sta praticamente sempre davanti In difesa Raffael Guerrero Idem Sta sempre Praticamente È meglio in attacco Che in difesa Pepe È uno che mena Ma si è fatto pure male Tra l'altro Ma non è che in difesa Si ha tutto sto fenomeno Rubendias Sceglie Insomma, non è che Stavo parlando di difese Che hanno Oggi hanno fatto Oggi hanno fatto la differenza Gli episodi Un calcio di rigore Ce n'era Avevano dato un calcio di rigore Al Portogallo L'hanno annullato Perché hanno dato Calcio di rigore Per la Svizzera Secondo me Giustissimo Perché è vero Che il contatto è minimo Ma quando stai correndo Cioè, lì Ti basta un tocchetto E cadi per terra Quindi ci sta Il calcio di rigore Per la Svizzera Che segna Tra l'altro Rodriguez Rodriguez Vabbè Comunque, raga Io Sinceramente Non mi sarebbe dispiaciuto Se fosse passata La Svizzera Anche perché Dopo aver fatto Quel 5-2 Al Belgio Mi ricordate Nel girone E essere passata Alle Final Four Insomma Speravo Arrivasse in finale Tant'è Però Portogallo C'ha Cristiano Ronaldo Che decide La sfida Praticamente da solo Perché insomma Non è che il Portogallo Non mi piace tanto Perché non ha tantissimo Gioco di squadra Cioè nel senso È un po' Noi abbiamo i campioni Ogni tanto ci proviamo Cioè non è che abbia fatto Tutta sta cosa Sinceramente Detto questo Ragazzi Con il soldi Vi invito a scrivere nei commenti Cosa ne hai pensato di questa partita Ovviamente però Iscrivetevi anche al canale Ti ando alla campanella Per essere sempre giusto Tutti i miei video Mi piace Seguitemi su Instagram Ragazzi Ci vedo nel prossimo video Ciao